Il comune di Roccapiemonte sta preparando una relazione dettagliata sui danni provocati dall'esondazione del solo frano avvenuto lo scorso 4 novembre a causa della rottura degli argini del corso d'acqua. Il sindaco Carmine Pagano ha ricordato che è possibile protocollare a comune l'istanza per la richiesta di risarcimento danni, nel mentre prosegue il lavoro di ripristino della viabilità in alcune delle strade colpite dagli allagamenti dopo la ricostruzione degli argini. La responsabilità è degli organi regionali, quindi noi stiamo preparando una relazione dettagliata su quelli che sono i danni provocati dall'esondazione della solo frana, quindi quelli che riguardano specificamente Roccapiemonte e poi ovviamente anche i privati dovranno chiedere, e credo che lo stiano già facendo, il risarcimento e il ristoro dei danni alla regione, noi ci faremo sicuramente anche carico di questo, cercando al più presto di poter far tornare tutta la normalità. Chiaramente ora ci sarà bisogno delle perizie, di vedere i danni subiti dalle abitazioni, spero che nel giro di un paio di giorni Massimo si riesca a riprendere anche la viabilità con la pulizia del fango che è rimasto, entro un paio di giorni dovranno essere eliminati anche i fanghi che sono stati raccolti, il centro sociale è stato quasi completamente ripulito, quindi poi rimane un po' la valutazione dei danni alle abitazioni e quindi l'eventuale poi proseguo di questo fatto, è stato ricostruito l'argine del fiume e insomma si sta lavorando, cercando di uscire da questa problematica, gli anziani saranno ancora ricoverati a Villa Silvia, perché anche il recupero della Doms de Maria non è semplice perché sono danni notevoli al piano terra. Grazie a tutti.